Ok, questo penso di averlo già capito No, perché sto premendo il destro Perfetto, col sinistro Andiamo qui, da 3 Da 3, ok, perfetto 1 E 2 E via Una volta capito il meccanismo Ecco, so per dire che una volta capito il meccanismo Non diventano così complicati Basta Qui, in teoria, bisogna capire dove è la Sinteri Ovviamente questo qui Ma noi dobbiamo arrivare fino a lì Quindi lo spostiamo così Ah, ok Ah, ah Pensavate fosse facile Ottimo Se siamo così Ho fatto una cazzata Scusatemi se non ci riesco subito subito Ma Non Vai Non avendo fatto questi livelli Mi serve un attimo per capire com'è l'enigma Allora questo Lo ributtiamo giù Perché sicuramente Secondo me Allora Proviamo Ah, era così Semplice Terenzo ci ho anche pensato Però poi ho detto Non può essere Non può essere No, no, no Ok Dico Allora Ritorniamo con il cubettino Verde Fatemi un attimo Capire Come va Allora Ok, perfetto Ho capito A questo lo spostiamo Al massimo Spostiamo Il verde qui Spostiamo al centro Alziamo questo No, scusate Allungate questo qui E lo spostate Di tre Dopodiché Allungate questo E voilà Dicevo Voilà Siete arrivati In cima Allora Qui, qui, qui Qui Adesso si sposta Di tre E ruota Quello rosso Sicuramente Dovremmo andare lì Qual è Ora il problema Ok Se va Adesso la lunghiamo Al massimo E proviamo un po' Fatto Procediamo no non ci siamo io non riesco a capire se stiamo andando in alto o in basso in questi piani vabbè che non credo abbia importanza visto che non c'è una storia questi sono grigi perfetto allora dovremo mandare la pallina lì ah eh, mi sembrava fosse troppo semplice sì perfetto adesso lo dobbiamo montare di là credo è concluso ah no 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 perché sono quello e ho sbagliato ridagli e lo rese un grande allora scusate questo leggermente ok due ok uff mi stavo impicciando con queste cose allora allora ok dovrebbe andare così ah ok no niente ho fatto una cazzata ma allora questo si gira così eh questo dovrà andare lì in teoria così esattamente altro verso Ah, pare abbiamo finito anche il terzo livello Wow Quarto livello Allora, allora 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 Wait a minute Rosso Ah, ho capito Dobbiamo praticamente attivare tutti i colori Quindi in teoria Dobbiamo andare qui E manca il giallo E' un po' E' un po' Perfetto, è un fattore di tempismo più che altro. Sì, perfetto, si rialzano le stanze, ok, dobbiamo prendere per così, uno, due, e vai. Sì, perfetto, si rialzano le stanze. Perfetto, si rialzano le stanze. Perfetto. Perfetto. E uno è andato, ok, ne mancano due. Perfetto. 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 Perfetto.